Benvenuti a questo ultimo ciclo di tribune elettorali in vista delle elezioni politiche del 4 marzo. Oggi in questa tavola rotonda si confronteranno i rappresentanti di 5 liste che concorrono alle elezioni e che vi presento subito. Alla mia sinistra Simone Baldelli di Forza Italia, benvenuto, Stefano Candiani della Lega, Andrea Dusi di Dieci Volte Meglio, alla mia destra Pierpaolo Sileri, Movimento 5 Stelle e Maria Di Nolfi, Popolo della Famiglia. Benvenuti a tutti, ricordo che prima di iniziare questa tavola rotonda è regolata dalla Commissione parlamentare di vigilanza e che i tempi di parola sono uguali per tutti, scanditi dai timer che avete di fronte. Allora, siamo ormai a meno di una settimana dal voto, un voto dall'esito quanto mai incerto e incerto è soprattutto lo scenario politico che si aprirà il giorno dopo il voto. Fino a poco fa si ipotizzavano larghe intese nel caso in cui nessuno avesse la maggioranza, ora questa ipotesi pare tramontata. Candiani, inizierei da lei. Se nessuno avrà la maggioranza che succede? Si rivota? Innanzitutto le ipotesi di larghe intese non ci appartengono e le lasciamo volentieri a chiunque altro. I cittadini italiani bisogna dare la certezza di un governo e di un governo che governi, non di inciuci fatti fuori dal Parlamento e fuori dal passaggio delle urne. Se non ci sarà una maggioranza se ne dovrà prendere atto, comunque una maggioranza ci sarà e sarà la nostra che vincerà. Dopodiché, nel caso specifico, se dovesse prendersi quella circostanza, andare più velocemente con una legge elettorale che consenta ai cittadini di potersi esprimere e di non trovare nessuno che faccia giochi fuori dal palazzo. Sileri, se non c'è una maggioranza chiara, che cosa succede? Si rivota con questa legge elettorale o con una nuova, come mi pare di capire, auspica Candiani? Io credo che dovremmo aspettare il 5 per capire esattamente quello che accadrà. Il Movimento 5 Stelle è il primo partito, il primo movimento con le percentuali, almeno quelle avute fino ad oggi. Noi abbiamo un programma con 20 punti, 20 punti che verranno offerti alle altre forze politiche e chi condividerà questi punti potrà fare un'alleanza con noi. E' chiaro che dobbiamo aspettare il 5 perché sui giornali si legge di tutto, alleanze fra il centro e la sinistra, il Movimento 5 Stelle col PD, il Movimento 5 Stelle con gli altri, con l'EU. La verità è che dobbiamo aspettare il 5 mattina, ci sveglieremo e capiremo esattamente quello che potremo fare. Baldelli, lei è vicepresidente della Camera e visto che si è tornato ad un sistema in gran parte proporzionale, è immaginabile che si torni anche ad un sistema più largo per le elezioni dei presidenti delle Camere? Oppure stavolta sarà prerogativa della maggioranza? Io mi auguro che ci sia un'elezione condivisa. Il sistema del Senato è più veloce rispetto al sistema della Camera, nel senso che permette anche in assenza di un accordo amplio di eleggere prima, ma perché il presidente del Senato è tra virgolette il vicepresidente della Repubblica. Però è un percorso istituzionale che io mi auguro sia il più possibile condiviso e che dovrebbe essere alla base delle buone norme, quello di riconoscere regole condivise e figure in grado di essere garanti. Però questo ha poco a che fare con il dibattito politico. Io posso dire, essendo l'unico uscente tra i componenti di questa tavola rotonda, che poi ci sono tante forze politiche, tanti candidati che hanno tanti progetti per il futuro, io parto dalle cose fatte. Se volete possiamo discutere anche di queste. Ci arriveremo a Dinolfi. Lei è stato in passato deputato del Partito Democratico, quindi ha un'esperienza parlamentare consolidata. Sappiamo che in Parlamento, un Parlamento appena eletto, è difficile riportarla al voto dopo pochi mesi. Secondo lei è praticabile la strada di approvare rapidamente una nuova legge elettorale e tornare a votare? Non ci saranno nuove elezioni. È nella tradizione dei Parlamenti italiani. I Parlamenti italiani nascono con mille difficoltà e durano. Durano magari cambiando tre volte governo, quattro volte governo nell'arco della legislatura. Tranne l'episodio del Prodi, diciamo così, molto breve, 2006-2008, vinte le elezioni per 25.000 voti, quindi con una particolarità assoluta, tranne in quell'episodio la storia delle legislature italiane prevede la lunga durata. Ma è normale, diciamola ai cittadini. Il parlamentare appena eletto tendenzialmente non avva volentieri di nuovo alle elezioni. Quindi senza voler accusare nessuno, quello sarà lo scenario. Si cercheranno forme di intesa tra soggetti spuri. Questo, secondo il nostro punto di vista, secondo il popolo e la famiglia, è un problema per il Paese. Bisogna andare più possibile verso maggioranze che abbiano un progetto politico potenzialmente omogeneo. Il popolo e la famiglia, per esempio, propone l'idea, dovessi mettere in Parlamento, credo con un numero di parlamentari abbastanza determinanti, anche solo facendo il 3%, che potremmo aiutare proprio questo tipo di soluzione. C'è una maggioranza valoriale che possa andare a fare delle cose precise, per esempio rompere la tragedia della denatalità, far rinascere il Paese partendo dai figli. Penso che queste cose possano invertire la rotta rispetto alla stagione delle leggi contro la vita e contro la famiglia e sono state le leggi dell'ultima legislatura repubblicana. Dussi, se si rivota, voi ci risarete? E nel caso, sempre fuori dagli schieramenti, o questa campagna elettorale vi ha permesso di rendervi conto che magari ci sono delle affinità? Se si rivota, io sento parlare di inciuci, sento parlare di accordi e non sento parlare del vero problema di questo Paese. Negli ultimi dieci anni, hanno governato un po' tutti negli ultimi dieci anni in questo Paese, il tasso di disoccupazione è raddoppiato. Un giovane su tre in questo Paese è senza lavoro. L'Italia ha l'urgenza di cambiare marcia. Sono troppe le persone che soffrono. Sono troppe le persone che ancora cercano un lavoro. Tre giovani, ma non solo. Ed è per questo che siamo nati con Dieci Volte Meglio. C'è l'urgenza di mettere insieme persone capaci, competenti, che ci credano che questo Paese possa, debba e meriti essere dieci volte meglio. Questa fine settimana ha visto i partiti tornare in piazza come non si vedeva da anni. L'occasione è stata data dalle manifestazioni antifasciste dopo alcuni recenti fatti di violenza. Secondo alcuni commentatori, questo in qualche modo è servito anche a ridare identità ai partiti di fronte alla radicalizzazione politica e sociale che sta avvenendo in Italia. Ecco, io vorrei da voi un parere sul perché si è riproposta questa contrapposizione fascismo-antifascismo. Baldelli, qual è la sua analisi? Intanto, sottolineo una cosa sulla vicenda che mi sottolinea prima. I due presidenti di Camera e Senato sono tutti due candidati con lo stesso partito. Non so se è una cosa singolare, ma non la trovo una cosa perfettamente istituzionale e politicamente molto solida e che regge. Ecco, con questa premessa io sono candidato nelle Marche del Sud dove c'è Macerata che ormai purtroppo arriva alle cronache per fatti disano e per fatti negativi. Tra l'altro l'ultimo più recente, ieri, sembra che una ragazza che è stata uccisa giovanissima non si capisce bene se da un incidente stradale per un incidente stradale o a seguito delle percorse di fatto è stato arrestato per omicidio preterintenzionale il padre, un pakistano. E se fosse vero ciò che tutto lascia immaginare, cioè che si tratti di maltrattamenti in casa frutto della mentalità, di una mentalità culturale incompatibile assolutamente con il nostro tipo di società. Noi abbiamo un problema di integrazione enorme, non di fascismo-antifascismo. Abbiamo un problema di integrazione. Se è vero il sondaggio del quotidiano nazionale che risale allo scorso anno in cui il 31% degli islamici residenti in Italia dice di non avere nessuna intenzione di integrarsi se il 32% ritiene che le donne non debbano né studiare né lavorare e il 24% dice che le donne non debbano neanche guidare la macchina noi abbiamo un problema enorme. E tutti quei signori che fanno le manifestazioni antifasciste e la sinistra salottiera per capirci che spesso sfila nelle città come Macerata dopo essere scomparsa per anni quando c'era bisogno perché magari c'era il terremoto ma che si affaccia a fare le manifestazioni antifasciste ecco dovrebbe venirci a spiegare come riesce a coniugare l'apertura delle nostre frontiere, l'immigrazione benvenuti a tutti diciamo per tutti i cittadini estracomunitari, immigrati, clandestini eccetera con questo genere di battaglie magari con quelle in difesa della donna me lo dovrebbero spiegare. Adinolfi, questo confronto su temi un po' anni 70 non distrae dai problemi concreti? Sì, la domanda è posta perfettamente distrae dai problemi reali e dalle soluzioni reali l'antifascismo senza il fascismo è qualcosa di insensato cioè noi dobbiamo parlare di quello che c'è come dramma in questo paese e non è il fascismo il dramma è una disoccupazione a livelli inimmaginabili vengo dalla campagna elettorale al sud signori, ci sono aree di questo paese dove il 52% dei ragazzi fra i 15 e i 24 anni non lavorano, non cercano un lavoro e non studiano è una tragedia il debito pubblico più alto del mondo le condizioni strutturali che non reggono non possiamo fare la campagna elettorale su fascismo e antifascismo dobbiamo dare al paese delle soluzioni quella del popolo e della famiglia è l'investire sulla famiglia l'investire sulla nascita dei figli fare il reddito di maternità al primo consiglio dei ministri se saremo determinanti a formare una maggioranza mille euro al mese alle donne che decidono di dedicarsi il via esclusiva alla famiglia dare soluzioni ai problemi investire sulla famiglia mettere soldi in tasca alla famiglia per far ripartire il ciclo economico quindi l'impresa che in Italia è prevalentemente impresa familiare fare davvero un orizzonte di speranza altrimenti siamo sempre a picchiarci sul nulla sulle vestigia di 70 anni fa e non costruiamo neanche un'idea di futuro tu se voi vi rivolgete ai giovani non vi spiazzano un po' queste fiammate ideologiche in piazza proprio da parte dei giovani? noi ci rivolgiamo ai giovani perché oggi è il popolo che soffre quello questa classe politica ha tolto non solo il lavoro ha tolto la speranza nel futuro è un dramma enorme e quindi sì, sono d'accordo quando sento queste discussioni su cose che non riguardano gli aspetti che nella strada nelle piazze le persone ci dicono come veri i problemi che sentono la disoccupazione è drammatica in questo paese e non se ne parla abbastanza ci vogliono distogliere dalla situazione che questa classe politica ci ha portato ed è per questo che crediamo che serva una nuova leadership politica capace, competente condotti e valori che questa classe politica ha dimostrato di non avere Sileri la vostra preoccupazione da questo punto di vista? vede, io ho 46 anni votai 25 anni fa per la prima volta e c'erano gli stessi identici problemi c'erano i cortei prima delle elezioni fascisti e antifascisti oggi 2018 stessa identica cosa francamente i problemi sono altri è chiaro che il fascismo fu un problema non c'è ombra di dubbio ma oggi ci sono problemi reali che i cittadini non riescono ad arrivare a fine mese manca il lavoro le università vanno a rotoli la sanità va a rotoli ne parlano tutti i giornali telegiornali liste d'attesa pronto soccorso stracolmi pensionati non arrivano a fine mese non arrivano a comprare la benzina per finire il mese questi sono i veri problemi allora o si incomincia a parlare di queste cose durante la campagna elettorale oppure siamo sempre a parlare delle stesse identiche cose è ora di cambiare io credo che gli italiani siano stanchi dopo anni di sentire sempre le medesime cose Candiani lo vede il pericolo la contrapposizione fascismo antifascismo secondo lei attuale brevemente così poi passiamo al programma lo vedono ovviamente i vari boldrini i vari Renzi e compagnia che per convenienza in questa circostanza rimettono in circolazione la solita macchina la contrapposizione ideologica per distrarre gli italiani cercare di distrarre gli italiani dai problemi di cui poi un po' tutti prima abbiamo accennato il lavoro l'immigrazione non possono parlare di banche perché se parlano di banche finiscono a parlare dei loro problemi di governo hanno messo in atto tutto questo meccanismo approfittando di situazioni di reale conflitto che si sono create e anche di drammi come quelli che abbiamo visto a Macerata è una cosa che non c'entra nulla con la realtà che vive il paese non c'entra nulla diciamola col loro nome sono tecniche di distrazione di massa punto allora la leva fiscale è uno degli strumenti fondamentali di politica economica siamo passati ai temi programmatici ed è uno dei temi principali di questa campagna elettorale perché tutti i partiti hanno una loro proposta in particolare la coalizione di centrodestra ha presentato la proposta della cosiddetta flat tax una aliquota unica che si sostituisce alle attuali 5 aliquote del 23% o anche meno a seconda dei punti di vista la Lega credo che chieda di meno ecco di come funziona se ne è parlato tanti in queste settimane il campo è molto diviso tra favorevoli e contrari io vorrei chiedere a Baldelli la flat tax è vero che può essere pensata solo se accompagnata da una revisione drastica di deduzioni e detrazioni perché si discute molto della sua copertura finanziaria non è soltanto come dire creare un buco ma c'è una copertura finanziaria che da una parte toglie anche è inevitabile ridisegnare tutto il meccanismo di deduzioni e detrazioni perché è quello che garantisce in parte anche una copertura pagare meno tasse pagarle tutti pagarle in maniera più semplice e magari capire a che cosa servono io le do una risposta sulle cose del futuro ma le dico anche una cosa che abbiamo fatto tanto per citare cose concrete e temi vicini alle persone terremoto 127 milioni di euro di risparmi della Camera degli ultimi due anni su mia proposta e con il voto di tutte le forze politiche destinate alle popolazioni colpite dal terremoto sono stati sbloccati giovedì dal governo e saranno spesi per infrastrutture assistenza alla popolazione e opere pubbliche Adinolfi proposte mirate anche per voi come il reddito di maternità mille euro al mese per le donne che si dedicano alla cura dei figli rinunciando al lavoro questo non ci riporta un po' indietro negli anni nella condizione femminile io credo di no ci porta avanti ci porta finalmente a considerare le donne madri come delle lavoratrici anzi forse come le lavoratrici più preziose in questo momento c'è il bisogno assoluto di avere figli altrimenti le colonne del welfare non reggono e allora basta col considerare la maternità la donna che si dedica alla famiglia come qualcosa di arretrato è il futuro necessario di questo paese perché con due milioni di italiani in meno che purtroppo i saldi vengono evidenziati dall'ISTAT che arriveranno in sei anni noi non avremo più l'Italia allora le donne madri sono lavoratrici e va considerata almeno allo stesso strego delle altre non è una donna di serie B la donna che si dedica alla famiglia e lo Stato deve riconoscerle il minimo perché la mamma poi lo sappiamo un po' tutti lavora sette giorni su sette ventiquattro ore su ventiquattro e deve pure garantirti il sorriso quando mette il piatto in tavola ne vogliamo riconoscere qualcosa allora la nostra proposta è il reddito di maternità ma al primo consiglio dei ministri e poi la riforma fiscale del quoziente familiare se ne parla da un quarto di secolo ogni volta viene promessa in campagna elettorale la vorremmo vedere realizzata perché 30.000 euro guadagnati da un single non sono gli stessi 30.000 euro guadagnati da un padre di famiglia con tre figli Sileri voi che ne pensate della flat tax anche voi ritenete che la pressione fiscale sia eccessiva che bisogna rimettere un po' di soldi in tasca agli italiani le tasse devono essere sicuramente abbassate la flat tax fu già proposta diversi anni fa e mai applicata il Movimento 5 Stelle il Movimento 5 Stelle prevede che venga innalzata la no taxare a 10.000 euro che l'aliquota passi dal 27 al 23% per i redditi sotto i 28.000 e fra i 28 e i 100.000 arrivi al 37% e si abbassi al 41% l'aliquota al 42% l'aliquota per i stipendi oltre i 100.000 euro è chiaro che le tasse più basse consentono una maggiore disponibilità economica nelle tasche delle famiglie che poi spenderanno e faranno circolare più denari Candiani gli economisti dicono che la flat tax almeno una parte degli economisti sostengono che la flat tax dà tasse ai ricchi ma in realtà non dà granché ai redditi più bassi come risponde? come confutate questo ragionamento? anzitutto mi piacerebbe vedere qualche dimostrazione pratica reale perché tutti vanno a parlare in questi giorni anche in campagna elettorale però quando metti i numeri sul tavolo non li mettono la realtà dei fatti è molto semplice se tutti pagano le tasse tutti ne paghiamo meno questo è evidente anche agli occhi di un cieco chiunque può capirlo l'obiettivo è riuscire a mettere in funzione in circolazione parte di quella ricchezza che oggi purtroppo o è in evasione o resta invece immobilizzata perché tutti abbiamo bisogno che l'economia riprenda definire due aliquote in questo caso due scaglioni fino al 35 mila euro e da 35 a 50 mila euro e applicare una flat tax fissa di 15 mila euro applicando poi delle detrazioni su base di nucleo familiare quindi su componenti va anche nella direzione di sostenere poi politiche di sostegno alla famiglia stessa e quando si parla delle coperture ricordo che ogni anno la finanziaria viene fatta sempre con uno sbilancio puntualmente di 25-30 miliardi che poi viene corretto con le manovre correttive noi abbiamo preparato un sistema c'è chi lo vede al 23 noi lo vediamo al 15 su questo poi ovviamente ci si mette con i numeri e si applicano le condizioni migliori per i cittadini che garantisce di rimettere in circolazione risorse abbassando le tasse per tutti soprattutto tutelando chi ha meno e ripeto facendo emergere finalmente anche una parte dell'emerso che invece oggi purtroppo non emerge perché la tassazione purtroppo sfugge ricordiamolo anche che in parallelo ci deve essere come abbiamo previsto una semplificazione delle procedure per pagare le tasse e chiaramente anche una forte ed incisiva azione contro l'evasione un sistema serio nel momento in cui fa pagare le tasse a tutti e nel momento in cui chi evade viene realmente bastonato quindi se capisco bene da una parte il pagar meno tasse permette di recuperare l'evasione dall'altra la copertura della flat tax arriva dalla rimodulazione di deduzioni e di tutta una serie di altre stesse le aggiungo e chiudo ma c'è margine nel bilancio per fare questa manovra certo che c'è margine tant'è che l'abbiamo anche dimostrato pubblicamente aggiungo anche una cosa fa già piacere il fatto che tutti siano obbligati a confrontarsi con questo tema abbiamo imposto un tema alla campagna elettorale e è una cosa chiara tutti hanno evidente che con questo si può realmente cambiare il sistema fiscale oggi così come l'Italia non regge più Dusi meno tasse aiutano ovvio e siamo tutti d'accordo che in questo paese si pagano troppe tasse ma non è solo quello l'aspetto da considerare vede io sono un imprenditore e in dieci volte meglio ci sono molti imprenditori e molti innovatori persone che hanno innovato in piccole e medie grandi aziende noi sappiamo cosa significa creare posti di lavoro gestire posti di lavoro creare nuovi lavori e il tema centrale non è solo la tassazione è la burocrazia di questo paese per questo una delle nostre prime proposte è l'abolizione della partita IVA sotto gli 80.000 euro per permettere chi ha la necessità o il sogno di mettersi in proprio di avere meno burocrazia il tema della tassazione è importante vogliamo anche noi meno tasse ma deve essere accompagnato a uno stato più moderno più efficace e solo chi ha lavorato in questi settori ha la capacità e la competenza di realizzare un piano di un cambiamento radicale in questo paese Baldelli lo slogan di Forza Italia è meno tasse e più lavoro di meno tasse abbiamo parlato ora parliamo del più lavoro voi immaginate di creare posti di lavoro con la decontribuzione leggo dal vostro programma decontribuzione dei contratti di apprendistato e primo impiego prevedete uno sgravio fiscale contributivo alle aziende che assumano giovani a tempo indeterminato ma poi quando gli sgravi finiscono non è in qualche modo quello che è stato rimproverato al job act noi abbiamo bisogno di dare un segnale di ripartenza il più grande meccanismo per far ripartire l'occupazione è lo sviluppo è lo sviluppo che crea occupazione non sono piccole o grandi leggi e quando riparte lo sviluppo si realizza il benessere e riparte l'impresa eccetera e la rivoluzione fiscale di cui abbiamo parlato fino adesso è la ricetta per Forza Italia per far ripartire lo sviluppo e poi anche singoli provvedimenti di decontribuzione per i nuovi assunti perché dare la possibilità ai ragazzi di entrare nel mercato del lavoro è la cosa fondamentale e Berlusconi questo l'ha fatto da presidente del consiglio e da imprenditore Sileri anche il Movimento 5 Stelle propone una riduzione drastica della disoccupazione giovanile grazie a investimenti nell'innovazione tecnologica ad alto potere occupazionale ci spieghi meglio qual è il vostro concetto è sicuramente necessario investire e non tagliare l'Italia purtroppo negli ultimi anni ha subito le pressioni dell'Europa con dei tagli per arrivare a un paletto di bilancio questo ha reso disponibili molti meno investimenti di quelli che sono necessari e chi è rimasto tagliato fuori sono stati soprattutto i giovani lo vediamo nell'università gran parte dei giovani che finiscono l'università non trovano lavoro e sono costretti ad emigrare sarà necessario investire investire nell'università investire per il dopo università investire nelle piccole e medie imprese e ricominciare ad assumere ad assumere anche nella pubblica amministrazione dove il turnover è fermo ormai da diversi anni si è innalzata l'età pensionabile ma non si è pensata una flessibilità per i giovani quindi c'è troppa rigidità per andare in pensione e troppa poca flessibilità per i giovani che devono essere assunti grasso di liberi uguali dice che se i 5 stelle ripristina l'articolo 18 possiamo parlare tornare a parlare di alleanza latenta? vediamo dopo il 5 gli accordi onestà si fanno dopo non prima no gli accordi prima non vengono fatti la dimostrazione è che Luigi Di Maio presenterà una lista dei ministri già giovedì quindi poi fa l'accordo con Grazio ne dubito perché aspettiamo il 4 per vedere le vere percentuali non ci dimentichiamo che c'è un 30% di italiani che è ancora indeciso che non andrà a votare quindi francamente tutti i sondaggi visti fino ad oggi hanno un ampio margine di variazione diciamo che è uno di quegli elementi sul tavolo di quel contratto di cui ha parlato Di Maio ma se vediamo i programmi di tutti i partiti ci sono dei punti in comune con noi e con gli altri la verità è che l'Italia ha bisogno di un vero cambiamento quindi non è difficile trovare dei punti in comune fra i programmi di tutti a dire il vero Dusi puntata a 3 milioni di nuovi posti di lavoro in 5 anni guardate a settori ben precisi turismo nuove tecnologie su questo avete molte assonanze con il programma dei 5 stelle dov'è la differenza? Ma noi siamo indignati quando sentiamo tante promesse elettorali da parte di chi ha governato questo paese negli ultimi 20 anni a livello centrale o a livello locale sono tutti uguali per noi noi vogliamo rimettere al centro di questo paese la competenza e il merito parole che sono scomparse ormai dal nostro vocabolario noi crediamo fortemente che all'interno di un panorama come quello drammatico del nostro paese sia necessario sia doveroso lavorare con una visione di futuro quali sono i settori strategici per questo paese per competere non solo oggi ma anche fra 5 e 10 anni allora sì noi puntiamo sulle nuove tecnologie perché noi abbiamo innovato in questi ambiti è il nostro pane puntiamo sul turismo perché abbiamo le migliori esperienze di questo paese a disposizione del paese noi crediamo anche che sia necessario andare a riformare l'istruzione ha notato che nessuno parla di istruzione di educazione chi oggi ha 20 anni prima di comprarne 40 farà 18 lavori diversi 9 dei quali non esistono allora c'è la necessità di rimettere al centro dell'educazione e questo paese può insegnare al mondo come riessere e ridare al mondo un rinascimento che non sia solo tecnologico ma anche culturale voi parlate di felicità nel vostro programma le sembra un popolo felice questo dove un giovane su tre senza posto di lavoro dove la disoccupazione era doppiata negli ultimi 10 anni dove una donna non è trattata come un uomo e gli stipendi per una donna sono inferiori a quelle di un uomo dove siamo e discriminiamo i diversi questo è un paese fortemente infelice e ha bisogno di un cambiamento radicale perché chi ci ha portato in questa situazione non può avere le risposte per tirarcene fuori Candiani è il nuovo lavoro da creare ma anche il lavoro che c'è e che va difeso ad esempio la questione delle localizzazioni che è un problema che in questi giorni si è posto all'attenzione di tutti il caso resente dello stabilimento piemontesi della Embraco che tra poco sarà chiuso per spostare la produzione in Sloacchia questo è un brutto segnale d'allarme che cosa si può fare questo è un brutto segnale d'allarme che noi lanciamo peraltro da tempo perché è chiaro ed evidente a tutti che parlare di economia è una cosa o lasciare parlare la finanza invece è altro quando succedono casi come questo vuol dire che la politica in questo caso quella di governo ha fallito perché è immaginabile che ci siano multinazionali che non fanno l'interesse nostro che non fanno un profitto che guarda semplicemente in questo caso la finanza spostano le imprese fuori dal confine italiano e le portano addirittura in altri paesi europei dove hanno delle contribuzioni che sono a tutti gli effetti concorrenza sleale noi su questo abbiamo le idee chiarissime bisogna andare in Europa e rivedere i trattati impedire che queste condizioni di cannibalismo industriale possano continuare e dare spazio e sostegno a chi l'impresa in Italia la fa su serio che sono i nostri artigiani che sono i nostri piccoli imprenditori esiste un tessuto produttivo che viene trascurato anche sulla questione dell'energia in questi giorni abbiamo sentito parlare i costi dell'energia delle grosse imprese vengono valutati dal governo come spalmabili sugli altri mentre le piccole imprese vengono trascurate e lasciate a se stesso il lavoro si crea nel momento in cui il costo del lavoro è più basso occorre abbassare il costo del lavoro e occorre agire fortemente come diciamo prima sulla questione fiscale e ricordiamoci rivedendo anche la legge Fornero c'è una maggiore possibilità di ingresso nel mondo lavoro dei giovani garantendo e consentendo anche a chi è maturato 40 anni di anzianitari poter andare in pensione Adinolfi brevemente perché lei già si è consumato un sacco di tempo non so come gli altri sono terzo no perché lei deve ancora rispondere allora voi avete un programma tutto concentrato sulla famiglia però il tema del lavoro non è centrico rispetto alla questione della famiglia si mette su famiglia si fanno i figli se si ha un lavoro e si ha un buon lavoro no? bene noi abbiamo provato a spiegarlo lo rispiego che il reddito di maternità è trasformare la donna madre in lavoratrice riconosciuta ed è dunque un passaggio per avere lavoro perché con quei mille euro al mese abbiamo una lavoratrice una madre che diventa lavoratrice non donna di serie B lavoratrice riconosciuta abbiamo fatto a ragione Baldelli la strada è quello dello sviluppo come si crea sviluppo? questo però sembra un po' più assistenza eh no no non è assistenza mi scuso ma voglio essere netto il lavoro a favore della famiglia in questo momento è determinante per la salvezza e lo sviluppo di questo paese se noi non riconosciamo questo ruolo se noi pensiamo che dare mille euro a una mamma vuol dire fare assistenza vuol dire non abbiamo capito qual è la tragedia in cui siamo immersi oggi la donna madre è una lavoratrice che vale quanto la segretaria dell'avvocato del dentista o la donna che pulisce le scale che può scegliere a quel punto di stare con i figli guadagnare mille euro al mese diventare una lavoratrice fondamentale per questo paese e se facciamo il quotiente familiare mettiamo soldi in tasca creiamo sviluppo e poi dobbiamo investire sull'impresa che in Italia è prevalentemente impresa familiare non dimentichiamocelo è impresa familiare piccola media artigianale commerciale e questo è il tessuto economico dell'Italia o torniamo a investire sulla famiglia o questo paese è morto allora introdurrei un altro tema che è quello dell'immigrazione Sileri la questione dal vostro punto di vista come va affrontata è una questione di rimpatri e se è solo questione di rimpatri come farli concretamente? non credo che sia solo una questione di rimpatri il problema è a livello europeo l'Italia si trova al centro del Mediterraneo e quindi accoglie tutti questi migranti che cercano e chiedono asilo in Italia il diritto di asilo è stancito dall'articolo 10 della nostra Costituzione il vero problema è in Europa i criteri di Dublino stabiliscono che il paese che accetta l'immigrato debba poi provvedere al diritto d'asilo valutarne la domanda e successivamente rimpatriarlo se necessario la verità è che siamo rimasti completamente abbandonati dall'Europa questo per noi è una spesa di quasi 5 miliardi di euro l'anno e l'Europa non ci ha assolutamente aiutati sarà necessario rivalutare questi criteri di Dublino rivalutare in ambito europeo l'aiuto da parte degli altri paesi europei con equità e quindi con maggior disponibilità economica ma l'Europa non pare ben disposta non avremo altro modo che alzare la voce Candiani basterà alzare la voce? bisogna essere seri innanzitutto con noi stessi perché non si può raccontare la storia del mago che è tutto sempre colpa dell'Europa e degli altri faccio presente tra l'altro che proprio nei giorni scorsi Macron che è anche quell'esempio preso a fanale da parte a faro da parte di qualche fulgido esponente di sinistra ha legiferato definendo dei criteri che sono semplicemente di rigore se entri in Francia senza le carte sans papier sei un criminale che viene perseguito penalmente noi avevamo una legge avevamo una legge la bossi fini che è stata disattesa c'erano dei criteri di definizione dei reati come quello di immigrazione clandestina che grazie al voto e in questo caso 5 Stelle e PD assieme è stato abrogato detto questo per noi le cose sono molto semplici chi viene in questo paese e viene da zone di guerra ha diritto ad entrarci chi viene in questo paese illegalmente è immigrante che non presenta carte che viene attraverso gli scafisti che viene attraverso un sistema che è malavitoso ed entra poi in Italia e diventa a sua volta oggetto di sfruttamento da parte di false cooperative di un sistema che lucra sui migranti non può esistere questo meccanismo non ci sono alternative devono essere bloccati gli sbarchi e deve essere detto in maniera chiara in Italia se non dici chi sei se non vieni avendolo in diritto non ci puoi entrare punto Animo Alfri anche voi parlate di gestione severa dei flussi in che modo? La nostra ispirazione fondamentale dal punto di vista programmatica è il compendio della dottrina sociale della Chiesa il Magisterio della Chiesa con San Giovanni Paolo II Papa Benedetto e Papa Francesco spiega una cosa fondamentale il principale diritto dell'uomo in termini di migrazione è il diritto a non migrare è il cardine del Magisterio della Chiesa in materia di migrazione migrare vuol dire lasciare la famiglia lasciare la patria lasciare il proprio territorio dover affrontare e mettersi in mano ai mercanti di uomini privare le terre da cui partono i migranti tendenzialmente della potenziale classe dirigente del futuro perché sono i giovani che vanno via allora noi diciamo davvero questo deve essere il cardine di una riflessione e l'Italia non può essere l'imbuto d'Europa non può essere l'imbuto in cui Francia ognuno si protegge i suoi confini e l'Italia fa l'imbuto perché con questa lingua nel Mediterraneo rischiamo quella che Papa Francesco dice una immigrazione insostenibile il timer scorre Baldelli come aiutare a non immigrare come dice Berlusconi un grande piano Marshall per l'Africa perché se noi ci occupiamo dei migranti solo quando ce l'abbiamo già dentro casa diciamo che abbiamo un problema perché abbiamo 600.000 immigrati clandestini che non sappiamo come gestire dobbiamo fare in modo che l'Africa che è il posto da dove grossa parte di questi migranti arrivano sia un posto dove possano vivere e trovare lavoro e far diciamo sviluppare queste società questa è la grande ricetta non ce ne sono altre e bloccare i flussi attraverso gli accordi con i paesi di origine lo ha fatto il governo Berlusconi oggi sembra una grande invenzione di tutti l'abbiamo già fatto ma senza continui con i paesi di origine è difficile riportare indietro gli irregolari già presenti e non c'è dubbio ma vanno fatti gli accordi appunto per evitare che partano non per rimandarli indietro poi le espulsioni che si fanno adesso in misura ridotta vanno fatti di più il governo del centro-destra sarà garanzia di tenere la guardia alta su questo fenomeno mi permetta di chiederle se ho capito bene il piano Marshall sarà una delle leve importanti per aiutare questi accordi o no? e andranno fatti ma è evidente e andranno fatti partendo dalle organizzazioni internazionali dall'Unione Europea non è che il piano Marshall lo fa solo l'Italia bene grazie Dusi l'immigrazione si è ben gestita non è anche una risorsa importante per un paese con forte riduzione demografica come il nostro l'immigrazione è un problema molto serio per il nostro paese e anche per l'Europa però non è la priorità di questo paese con tanti italiani che soffrono per quello che ci siamo detti fino a questo momento per la mancanza di posti di lavoro la nostra priorità numero uno sarà la creazione di posti di lavoro per gli italiani perché se non ci pensiamo noi come uomini di governo nessun altro lo farà al posto nostro poi certo abbiamo uno spirito cristiano come tradizione per aiutare a vedere l'opportunità che c'è nell'immigrato un tema connesso a quello dell'immigrazione almeno nel sentire dei cittadini è quello della sicurezza Candiani voi mettete l'accento quando si parla di sicurezza anche sulla questione della legittima difesa da parte del cittadino un diritto che non è sufficientemente garantito non temete poi che ci sia un abuso delle armi ma guardi il paese più armato d'Europa è la Svizzera non mi risulta che la Svizzera sia un paese nelle quali ci sono sparatori lungo le strade no, non è questo il concetto il concetto reale invece è che ogni cittadino deve essere garantito il diritto di potersi difendere senza essere poi a sua volta inquisito se c'è un'aggressione una persona deve potersi difendere se un paese viene aggredito il paese deve difendere i suoi cittadini se una comunità viene aggredita la comunità deve difendere i suoi cittadini lo stesso vale per un capofamiglia nei confronti della famiglia o per una persona nei confronti di se stessa abbiamo visto purtroppo una degenerazione la legittima difesa trovandoci poi con le vittime che sono addirittura messe sul banco degli imputati costrette a risarcire gli aggressori questo non può esistere la legittima difesa deve essere sancita in maniera semplice chi viene aggredito deve potersi difendere e chi aggredisce se alla peggio purtroppo si è creata una condizione che potrebbe evitare di crearsi Sileri avete preoccupazione avete paura delle armi in casa o avete un altro voi un altro progetto di sicurezza voi parlate a un certo punto nel programma di sicurezza partecipata ad esempio che cos'è innanzitutto rispondo alla prima parte un eccesso di armi come negli Stati Uniti porta delle notizie di cronaca come quelle della scorsa settimana credo che la difesa del cittadino debba essere affidata alle forze di polizia quindi polizia e carabinieri bisognerà aumentare il numero delle forze dell'ordine dare loro stipendi maggiori perché francamente sono sottopagati e soprattutto proteggerli gran parte le forze dell'ordine non sono protette spesso arrestano qualcuno dopo qualche giorno di nuovo fuori quindi sono necessarie delle leggi più forti delle pene più severe dei processi più rapidi io credo che questa sia la via per garantire una sicurezza maggiore verso i cittadini quindi aumentare le forze dell'ordine dare loro più equipaggiamento dare loro più soldi e quindi proteggerli in tutti i sensi Baldelli oltre alla questione delle armi come dare risposta alla domanda di sicurezza dei cittadini riconoscendo la specificità delle forze dell'ordine senza fare leggi che li mettano nelle condizioni di non poter esercitare liberamente o prontamente il loro mandato tipo per esempio la legge sulla tortura eccetera dove voi votate insieme agli ex sell eccetera e riuscendo a fare in modo che si aumenti la presenza delle forze dell'ordine sul territorio anche questo il centrodestra lo propone perché l'ha già fatto in passato ecco ad esempio voi chiedete il poliziotto di quartiere ma in qualche modo già c'è l'uso dell'esercito nelle città anche quello e anche quello ma chi l'ha fatto l'ha fatto il governo del centrodestra noi proponiamo rimettere in campo quelle stesse politiche perché col centrosinistra c'è stato un lassismo dal punto di vista della sicurezza quindi queste misure vanno potenziate benissimo Dusi è dimostrato che l'insicurezza all'interno di una società aumenta con l'aumentare della disoccupazione la crescita dei posti di valore perdon la crescita dei posti di lavoro ha un effetto diretto nella riduzione della criminalità una persona lavora non deve delinquere per sostenere se è la sua famiglia e questo è il primo punto quindi andando a sistemare l'economia del nostro paese l'effetto diretto è anche in una maggiore sicurezza che abbiamo all'interno dei nostri confini questo è il primo punto il secondo punto abbiamo delle straordinarie forze armate e dobbiamo garantire a loro le nostre polizie i nostri carabinieri la nostra guardia di finanza gli strumenti moderni e adeguati per combattere il crimine allora un altro dei temi di cui si parla forse un po' poco posso dire solo una cosa sulla sicurezza noi abbiamo visto tante manifestazioni io sono per il diritto di chiunque a manifestare liberamente il proprio pensiero però quando tu per manifestare liberamente il tuo pensiero ti metti col casco ti imbavagli ti copri il volto vai in giro armato e picchi un carabiniere tu vai in galera normalmente dicevo un tema di cui si parla poco in campagna elettorale è quello dell'Europa Adinolfi per voi il patto con l'Europa va riscritto vi ha deluso sulle politiche della famiglia perché? perché è diventato l'Europa della morte l'Europa della cultura dell'aborto e dell'eutanasia noi dobbiamo riscriverlo partendo dal diritto universale a nascere non a essere abortiti non dall'Islanda che non fa nascere da 5 anni i bambini down o la Danimarca dove ne nascono 2 su 1800 quello si chiama genocidio eugenetico di stampo nazista noi dobbiamo ripartire dal diritto universale a nascere dalla cancellazione della vergogna dell'aborto dalla capacità giuridica del nascituro dalla cancellazione dell'eutanasia dalla cura al posto dell'omicidio di chi soffre e di chi non ce la fa questa è la nostra cultura è la radice cristiana dell'Europa che noi ribadiamo in questa battaglia in cui noi diciamo a noi la battaglia e addio la vittoria Candiani la Lega invece ha sempre avuto posizioni dure nei confronti dell'Europa vi ritenete euroscettici? ci riteniamo di buon senso perché applicare delle regole che non sono fatte sulla nostra misura ma che sono state costruite a misura del caso della Germania pensiamo alla finanza piuttosto che nel caso dell'Olanda o addirittura altri paesi per l'agricoltura tutte cose che schiacciano le nostre imprese applicare queste direttive in maniera semplicemente automatica è una cosa demenziale a fronte di questo i trattati europei esistono non sono stati scritti dal padre eterno sono scritti da mani umane quindi possono essere riscritti e rivisti laddove non funzionano voi invece siete fortemente a favore dell'Europa guardi noi siamo uno dei sei paesi che ha contribuito a creare l'Unione Europea siamo fortemente critici su molte cose di questa Europa un'Europa che è lontana dalle persone è lontana dalle nostre piccole e medie imprese ma noi crediamo che questo paese se va a lavorare sul ricreare veramente dall'Italia un rinascimento culturale tecnologico e digitale facendo uscire con una nuova classe politica competente fuori dalla crisi questo paese ecco che allora noi possiamo avere un'Europa diversa un'Europa che sia Italia centrica dove l'Italia può guidare abbiamo regalato l'umanesimo più volte e più paesi in diversi periodi storici vede noi nella storia abbiamo dato perdone a livello europeo abbiamo spesso mandato gli scarti della politica italiana e adesso ci lamentiamo qualche volta quando l'Europa non è a favore dell'Italia dovremo vergognarci perché in Europa si prendono molte decisioni e noi dobbiamo portare le nostre migliori risorse per poter competere con gli altri paesi Sileri anche il Movimento 5 Stelle ha avuto posizioni dure nei confronti dell'Europa in passato ora il vostro atteggiamento è cambiato? direi eurocritici non contro l'Europa siamo contro l'Europa quando abbiamo delle sanzioni inaccettabili e quando veniamo considerati un paese inferiore rispetto a coloro che in questo momento governano l'Europa ma questa è stata colpa di alcuni governi precedenti come ho detto precedentemente bisognerà di nuovo alzare la voce in Europa e non subire decisioni ma prendere decisioni e condividere in maniera forte e decisa ecco ma alzare la voce in Europa sì però occorrerebbe anche a volte essere come dire più aderenti alle istanze che vengono dall'Europa ad esempio le tante direttive che non vengono applicate su questo le direttive non applicate è un problema che negli ultimi anni è stato sempre più ridotto a dire il vero l'Italia sta tenendo il passo il vero problema è stata la grande crisi economica che ha determinato una riduzione dei finanziamenti pubblici a causa della necessità di raggiungere il pareggio di bilancio questo andrebbe ritrattato in Europa Baldelli Forza Italia si è posta come garante nei confronti dei partner europeo tanto che si dice che il vostro candidato premier potrebbe essere lo stesso presidente del Parlamento europeo tagliano però da voi critiche all'Europa non sono mancate in passato beh a partire da come è stata gestita male per l'Italia l'ingresso nell'euro tra l'altro io non ho ancora capito del Movimento 5 Stelle perché oggi non so se giorno pare o ora insomma alla fine se sono d'accordo per uscire entrare eccetera quindi noi abbiamo delle figure credibili in Europa e il governo di centro-destra sarà credibile e forte anche in Europa per difendere l'Italia approfitto con una cosa concreta che è molto più vicina alla vita quotidiana di tutti i giorni dal primo marzo entra in vigore il tetto per i maxi con guagli arrivano due maxi con guagli due milioni di maxi con guagli all'anno di luce gas e acqua grazie a una mia proposta sottoscritta da tutti una piccola buona notizia una pagina positiva di vita parlamentare firmata da tutti e votata da tutti entra in vigore una norma a favore dei consumatori non sarà più possibile ricevere maxi con guagli dell'elettricità a casa o negli uffici di tanti cittadini italiani Baldelli il nostro tempo è esaurito ma alcuni di voi hanno ancora pochi secondi quindi darei proprio due secondi cinque secondi a ciascuno per rispondere ad una domanda quest'anno votano i giovani del 99 i nuovi diciottenni che però è la categoria dove è più forte l'assenzionismo in cinque secondi cosa gli dice a un giovane che va a votare Adinolfi cominciamo da lei di rivolgere gli occhi al cielo e non stare a contare le ghiande dei maiali per la terra magari vedrà il manto azzurro della Vergine Maria e si faccia guidare al voto il diciottenne il 4 marzo nelle urne è un voto dove una volta si diceva Stalin non ti vede Dio sì ricordiamoci io vi seguo qualche secondo residuo vorrei rispondere a Baldelli innanzitutto non è né un giorno dispari né un giorno pari il movimento 5 Stelle è abbastanza chiaro sul fatto di essere euro critico io l'ho sottolineato molto bene è il momento di non scegliere la soluzione meno peggio ma di scegliere quello che può far andare a questo paese nel futuro prego c'è poco da dire occorre buon senso in politica noi su questo siamo molto molto determinati vogliamo riportare il buon senso all'attenzione della politica e fare delle scelte che siano come quelle che fanno tutti i giorni i cittadini di buon senso diffidate da chi vi dice che non andare a votare è o andarci o non andarci è uguale non è vero bisogna andarci e bisogna andarci informati guardate le proposte e quella che vi convince di più sceglietela e metteteci una croce sopra una croce sul simbolo si vota solo così bene questa tavola rotonda si conclude qui il nostro tempo è esaurito ringrazio i nostri ospiti e gli ascoltatori che ci hanno seguito e io vi do appuntamento domani stessa rete stessa ora per una nuova tavola rotonda grazie arrivederci a tutti buonasera grazie a tutti